Marcellino, amore sei cresciuto, vediamo, che dolce, ehi, che c'è, che dice la dottoressa, come sta Marcellino, come sta questo dolcissimo, amore, vuoi l'altro omogenizzato tu, dottoressa come sta Marcellino, che cos'ha? Dopo lo vediamo, dicono che è brutto, dicono che è brutto, è il piccino, però Marcellino Panellino, ma qual è il problema delle dita, questo è il doppio sperone, il doppio sperone, questo è il doppio sperone, è normale, si c'ha la deviazione della dita, proprio completamente rivoltata, però la sta correggendo, la sta corregendo, giusto? Sì, c'è un po' di... Dottoressa, non l'ha trattato male, lo ha fatto allattare dal gatto. Aspetta, Marcellino! E lei l'ha crescita? Ma mamma, paperecchio! Sì, è un po' deviato qua, su una garretto, c'è la deviazione, però sembra che dovrebbe recuperarlo, anche perché non gli puoi fare manco niente. Comunque è chiaro che è stato abbandonato perché è malformato, no? Sì, sicuramente. Ma poi un neonato buttato in mezzo alla strada su Marciapiede, proprio, le bestie. Ma non avete visto se stanno femmine di Rottweiler, dov'è? Dottoressa, l'hanno trovata, non le l'hanno trovata in mezzo, non gli piace, non gli piace, perché ha mangiato l'omogenizzato, dice, questa porcherina. No, gli diamo un altro cuoco, dai qua, vedi? Un po' di omogenizzato per addolcirci. Ah, questo è buono, eh? Ecco. Ma il Nemex è appetibile, però. Non è come l'ha sputato un po', glielo mischio con l'omogenizzato. Però di solito piace, sì, no, l'ha sputato, perché di solito piace il Nemex. Lui è abituato a un altro. Perché? S'ha affamato, però. Vabbè.